però sono cose importanti perché noi sono quelle poi che dovremo trasmettere alle persone che portiamo all'interno di Flexcom, se una persona dice ma Flexcom avrà un'application, non lo so, ma forse sì, forse no, bene, ripetere in continuazione le cose che si dicono tutte le settimane è importante perché bisogna poi saperle, e un piccolo, piccolo aggiunto, ovviamente se i guadagni fatti da casa lì non c'è nulla da dire, si commenta da solo, una piccola aggiunta, diciamo così potrei fare sul Near Field Communication, nella presentazione che ha fatto Asker mercoledì scorso ad Amsterdam, si è soffermato parecchio sui dati che studi e aziende stanno verificando per i prossimi anni, addirittura prevedono che già nell'anno, dal 2015-2016 saranno presenti anche in Europa, ovviamente perché c'è Flexcom, quindi si potrà pagare anche in Europa con Near Field Communication, con il nostro smartphone, ma addirittura nel 2017, dal 2017 al 2020 viene proprio chiamata questa The Mobile Marketing Revolution, ovvero la rivoluzione del marketing attraverso il telefono, perché gli smartphone che si vogliono saranno un mezzo, lo sono già, ma saranno ancora di più un mezzo che modificherà il nostro modo di leggere, di pensare e ovviamente di acquistare, quindi di pagare, tutto sarà concentrato, se solo torniamo indietro di qualche anno, chi non si ricorda di questi telefoni pesantissimi, grandi, start up, ad esempio che potete scrivere il messaggio, in soli 8-9 anni siamo arrivati a dei telefoni dove leggiamo la mail, leggiamo le notizie, ci leggiamo il libro, compriamo, consultiamo il computer che vogliamo comprare, lo ordiniamo online, lo paghiamo con la carta di credito, semplicemente col telefono, bene, tra qualche anno non sarà più necessaria neanche la carta di credito, ma bensì né al filcommunication.